bene questa edizione eh speciale di tre domande scomode per che conclude questa parte estiva abbiamo il piacere di avere con noi Michele Munafo di Ispra ovviamente darò qualche cenno ma è già un nostro come dire eh affezionato esperto esperto dell'Ispra su questi temi ma non ci potevamo fare sfuggire credo che anche Michele Munafo condivida l'opportunità di tre domande scomode su un argomento estremamente interessante sulla natura e restauration love che in gazzetta il regolamento è non stiamo qui a dire che un regolamento diventa cogente sulle norme eh europee diciamo diamo per scontato la conoscenza di quelle che sono le basi del del diritto però questo natura e restauration love eh sono le norme europee sul riflesso degli ecosistemi ed entreranno in vigore il prossimo diciotto agosto ed entro il primo settembre duemila e ventisei gli stati dovranno presentare i loro piani nazionali e questo regolamento è il duemila e quattro barra millenovecenton novantuno ed è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea il ventotto luglio duemila e ventiquattro si tratta diciamo per essere diciamo anche chiari con chi ci ascolta della cosiddetta eh nature abbiamo detto restauration love importante che è un importante tassello del Green Deal che ha avuto il via libera questa questo regolamento dici e sette giugno scorso e quindi io ho pensato che fosse interessante proprio per il target questa legge eh come da una nota ufficiale del consiglio punta a ripristinare il venti per cento delle aree terrestri e marittime degradate entro il duemila e trenta quindi questo è il primo obiettivo che abbiamo davanti a noi poi ce ne sono degli altri fino al duemila e quaranta e duemila e cinquanta Michele Munafo una rapidissima presentazione oltre che essere eh ingegnere essere anche un docente universitario in tecnica urbanistica e un dirigente ISPRA è responsabile del servizio per il sistema informativo nazionale ambientale ovviamente ultra conosciuta la sua direi tra virtuolette passione ma competenza assolutamente insieme a quelle degli altri esperti eh sul tema del consumo di suolo e allora fatta questa premessa la prima domanda scomode perché anche per dare un inquadramento prego perché non vuoi darci anche qualcosa in più di quello che abbiamo detto fino a detto perché il ripristino della natura come detto sopra è importante per il Green Deal allora la considerazione che si fa alla base è che eh noi abbiamo ormai degradato troppo il nostro ambiente quindi dobbiamo passare da una logica di tutela di come dire mantenimento della naturalità del negli ambienti incontaminati no che può come dire l'ambientalismo chiamiamolo così della prima ora no al quindi la la difesa dell'ambiente ha invece una come dire riconoscimento che ormai quello che abbiamo fatto ha superato ampiamente i limiti del nostro pianeta ed ha portato a un degrado ormai diffuso del degli ecosistemi talmente ampio che non basta più difendere quello che c'è rimasto eh come dire incontaminato quel poco che è rimasto comunque poco degradato ma bisogna agire urgentemente quindi da qui anche la necessità di questo eh come dire introdurre questo meccanismo no all'interno del regolamento per il ripristino della natura proprio in quegli ecosistemi attualmente degradati eh gli ecosistemi degradati sono tanti sono eh investono un po' tutto il territorio quindi giustamente il regolamento agisce vuole agire proprio in tutti questi ecosistemi quindi dalla parte marina dalla dalla ecosistemi terrestri negli ecosistemi terrestri sia quelli eh naturali ad esempio gli ambienti forestali sia quelli via via più antropizzati come ad esempio quelli agricoli e quelli urbani quindi eh la considerazione che che è alla base e che proprio tra in questi ecosistemi tra nelle aree più degradate noi dobbiamo andare a reintrodurre a ripristinare la natura e soprattutto il funzionamento di quei processi naturali che sono fondamentali ad esempio perché ci assicurano eh la regolazione dei ricicli ambientali eh la fornitura di quei servizi ecosistemici fondamentali per eh garantire il supporto alla vita alla biodiversità il nostro stesso benessere in questo ambito quindi la la National Restoration Law eh è fondamentale anche perché di fatto è immediatamente eh attuativa eh sua si applica direttamente e immediatamente in alcuni in alcuni dei suoi obiettivi e delle sue azioni conseguenti eh faccio un esempio tra questi ecosistemi degradati sappiamo bene che si è parlato moltissimo no ad esempio delle aree agricole eh su cui il dibattito anche si è molto eh diventato anche a tratti un aspro no come dire e quindi il confronto è stato ampio si è parlato molto meno ad esempio delle eh degli ecosistemi degradati in ambiente urbano e qui anche anche in questi ambienti dove sappiamo che il degrado è spesso elevatissimo eh questo regolamento vuole agire per ripristinare la natura come ad esempio eh invertendo rapidamente la rotta della perdita delle aree aperte delle aree naturali delle aree verdi in ambiente urbano e questo lo fa dalla data di entrata in vigore della legge perché a differenza di di altri strumenti e questo regolamento è immediatamente vigente e quindi dalla data di entrata in vigore eh di fatto ad esempio le aree verdi non possono più essere eh come dire ridotte negli ambienti negli ecosistemi urbani. Non è una direttiva è un regolamento. È un regolamento esattamente quindi eh in questo caso il regolamento dice ad esempio che noi tra il duemilaventiquattro cioè l'anno di entrata in vigore della del regolamento e il duemilatrenta queste aree verdi non potranno diminuire e poi dal duemilatrenta in poi dovranno eh anche aumentare aumentare le aree verdi aumentare la copertura arborea eh il tutto poi facendo riferimento anche a strumenti di monitoraggio quanto più possibile oggettivi e condivisi. Il regolamento fa riferimento esplicito ai prodotti copernicus ad esempio quindi quelle immagini satellitari che ci permettono eh di eh avere un quadro sempre aggiornato puntuale e accurato no? Dello dello stato del nostro territorio e quindi da questo punto di vista eh anche lì gli stati membri avranno obiettivi, compiti, strumenti eh che in qualche modo ci permetteranno di vedere se effettivamente stiamo andando nella direzione giusta. Bene e questo era importante questo inquadramento eh ovviamente da par suo e che in una foggia è dato questo quadro di riferimento. La proposta di legge europea per il rischio della natura di cui stiamo parlando varata dal Parlamento europeo è in un portanto passa avanti per la tutela degli ecosistemi e può fornire anche alle aree protette strumenti operativi rilevanti per la difesa degli abitati naturali e quindi avevamo già accennato Tuggia come la conoscenza dello stato del capitale naturale può facilitare l'azione. Sì è proprio questo il punto eh centrato esattamente perché il il capitale naturale, la capacità di fornire quei servizi ecosistemici essenziali anche per il nostro benessere che noi oggi spesso riconosciamo in alcuni ambiti naturali e non solo eh non solo devono essere in qualche modo riconosciuti, valorizzati, tutelati, ma anche aumentati eh proprio sfruttando la capacità di fornire servizi ecosistemici di tutti quegli ecosistemi oggi anche non eh sono come dire degradati e quindi riducono fortemente la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Questo è tanto vero ovviamente nelle aree protette che eh hanno necessità anche eh come dire come compito primario no di eh mantenere e aumentare quella naturalità e quella capacità di fornire servizi ecosistemici a servizio mi viene di dire di tutto il territorio e di tutto il nostro ecosistema complessivo ma eh è fondamentale come dicevamo prima anche perché nelle aree protette noi sappiamo non esistono soltanto ancora una volta aree incontaminate da tutelare ma le aree protette nel nostro paese sono in gran parte anche aree con eh attività antropiche, attività agricole eh attività di insediamento quindi insediative, infrastrutturali, edilizi e quant'altro e quindi eh in questi contesti è ancora più necessario eh capire eh è aumentare anche la consapevolezza collettiva mi viene da dire di quanto sia importante anche e soprattutto in questo tipo di ambienti e di ecosistemi eh ripristinare questi questo funzionamento della natura. Grazie a questo funzionamento noi saremo in grado ospicabilmente eh di eh riportare eh ad esempio la capacità di produrre eh cibo ma anche biomassa e quant'altro in maniera eh eh più sostenibile compatibile con i nostri ecosistemi e con il funzionamento di questi ecosistemi di regolare il ciclo del del carbonio, dei nutrienti, il ciclo dell'acqua eh di eh permettere eh di ad esempio di adattare meglio il territorio a questi cambiamenti climatici che eh sono ormai evidenti eh incontrovertibili e quindi tutta una serie di azioni che dimostrano che in realtà le soluzioni basate sulla natura sono vantaggiose non soltanto per appunto di vista del eh della natura ma sono vantaggiose anche dal punto di vista di chi è ospitato in questi ambienti cioè noi in primis ma eh il regolamento ha una premessa eh fondamentale che eh eh dice che sostiene e dimostra che le soluzioni basate sulla natura e il riprisso della natura e quindi la riduzione degli ecosistemi degradati è estremamente vantaggioso anche dal punto di vista economico. Ricordiamo che ieri abbiamo superato mediamente la capacità di carico del pianeta. Esattamente quindi eh anche volendo fare semplicemente un calcolo materiale a noi oggi conviene agire con gli strumenti che la natura ha affinato nel corso dei dei millenni e che noi invece abbiamo tentato di sostituire con i casi con successo in molti altri casi con impatti eh come dire conseguenze non sempre volute non sempre positive da strumenti alternativi. Siamo ieri in questi giorni anche perché vogliamo essere sinceri con i nostri amici che ci ascoltano noi stiamo registrando il 2 agosto ma questa puntata andrà il 12 agosto noi siamo come dire trasparenti quindi ovviamente ci facciamo non essendo professionisti della comunicazione televisiva e quindi cadiamo come dire nelle nelle trappole delle date. Bene ma a questo punto io volevo arrivare qui perché ripeto credo di essere eh ma penso che farà piacere anche a Michele Mufo che è tutto sommato il papà di questo strumento. Io volevo arrivare a questo che è sempre dove io appunto perché da mio avviso tra le tante cose belle che fa Ispra che per me è un punto di riferimento anche eh personale e culturale io voglio parlare dell'importanza dell'ego atlante di Ispra Ambiente come strumento perché io quando ho visto tutte queste cose da rispettare ho detto lo strumento ce l'abbiamo ed è l'ego atlante ma siccome è prodomo suo a sto punto Michele Mufo ci deve se vuole e se può ma sicuramente eh lo farà ci ci dovrà dire come già perché ci avranno già studiato eh come eco atlante può diventare uno strumento per la realizzazione dei piani di cui abbiamo visto bisogna dotarsi entro il duemila e ventisei quindi sicuramente faremo qualche giornata poi dedicata a eco atlante e natura restauration roof ma prego Michele di darci qualche premizia su questo sì molto molto volentieri anzi mi approfitto anche per condividere lo schermo così faccio vedere qualche qualche esempio sulle quadrante su cui stiamo lavorando proprio in vista del eh del monitoraggio richiesto e del supporto richiesto dalla Nature Restoration Law eh per eh raggiungere questi importanti obiettivi eh vi anticipo che a settembre a fine settembre probabilmente riusciremo a integrare all'interno dell'Eco Atlante alcune mappe proprio dedicate alla Nature Restoration Law e quindi eh integrare tutta una serie di nuove informazioni o di informazioni attuali però già in grado di leggere quindi quelle quegli 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 ecosistemi e quelle caratteristiche degli ecosistemi dello stato di degrado ad esempio di di questi ecosistemi che oggi la Nature Restoration Law ci richiede quindi nell'Ecoatlante che è disponibile all'indirizzo ecotlante.isprambiente.it eh è possibile consultare le diverse storie eh che riguardano i vari ambiti del dell'ambiente eh nelle trasformazioni del territorio noi abbiamo già inserito dallo scorso anno un'analisi ad esempio del eh del degrado del del territorio quindi di una carta che in linea con quella che è la mappatura prevista dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite eh in questo particolare qui parliamo di land degradation individua e stima quali sono le superfici più degradate del nostro paese e sono proprio quelle dove la Nature Restoration Law vorrebbe e dovrebbe agire con maggiore eh incisività e urgenza. Eh gli ecosistemi sono mappati grazie proprio al ai dati del del programma Copernicus e quindi eh possiamo individuare tutte le diverse tipologie di ecosistemi ad esempio andando a interrogare la carta di copertura del suolo che individua ad esempio gli ecosistemi urbani eh separandoli da quelli che sono qui indicati ad esempio con le aree in rosso separandoli da quelli che sono gli ecosistemi agricoli eh prevalentemente naturali eh che sono invece in giallo o in verde. Questo ci permette quindi di andare a caratterizzare l'intero territorio nazionale eh e suddividere e calcolare poi le estensioni di questi ecosistemi. Eh tutto questo poi è possibile farlo eh utilizzando poi strumenti eh che il nostro il nostro quadrante permette anche di rendere eh come dire facilmente eh personalizzabili quindi ad esempio è possibile andare a costruirsi delle mappe no? Questo l'abbiamo visto anche altre volte e comporre una propria mappa eh partendo ad esempio proprio dal da alcune informazioni. Se si volesse utilizzare questo strumento ad esempio per andare a eh capire com'è la situazione nelle aree protette del nostro paese oppure nei contesti urbani oppure nei contesti agricoli oppure lungo la fascia costiera è sufficiente aggiungere eh dei dati e quindi costruirsi la propria eh mappatura eh ad esempio quella delle aree protette quindi possiamo aggiungere le aree protette dell'elenco ufficiale nazionale oppure i SIC ZPS eh che sono quelle di livello eh definite dalle direttive europee e e quindi andare a vedere all'interno di queste di queste aree eh com'è la situazione. Mi chiede una cosa. Rete Natura 2000 è strategico all'interno di questo regolamento. La eh una delle basi fondamentali è quella della magnificazione tra virgolette di Rete Natura 2000 che viene fuori invece dalle direttive ABDAT e Uccelli. Esattamente e quindi eh questi sono contesti dove ad esempio noi possiamo andare a indagare se c'è una presenza di eh degrado e che tipo di degrado da cosa deriva questo degrado e quindi possiamo andare a sovrapporre questi dati con ehm le informazioni che derivavano da quello stato di degrado che sempre i sensori satellitari ci evidenziano con con chiarezza. Eh in questo modo possiamo andare a capire quali sono le aree effettivamente più urgenti e prioritarie dove intervenire. Eh questo è possibile farlo integrando diversi diversi strati, diverse informazioni. È possibile poi ad esempio andare a vedere invece anche la questione del delle diverse forme di degrado del suolo oppure ad esempio di vedere eh all'interno delle aree urbane eh qual è la situazione eh di queste di questi ambiti e quindi ad esempio anche delle aree verdi all'interno delle delle aree più costruite eh basta andare verso una città eh in questo caso stiamo vedendo Roma per vedere il grado di artificializzazione eh e poi di vedere per vedere lo stato del del degrado delle aree verdi e a quel punto andare a intervenire ed eventualmente ancora una volta eh monitorare lo stato attuale e soprattutto in una logica di monitoraggio continuo no del eh previsto da questa eh da questo regolamento eh anche per capire se poi le azioni individuate e previste dai dai piani eh saranno poi in grado di migliorare ed effettivamente portare a questo ripristino della natura che l'Europa eh ci chiede grazie grazie Michele Munafo questo era veramente eh lo scopo di questa edizione speciale di tre domande scommode per abbiamo visto una carrellata rapidissima su quelle che sono i punti fondamentali di questo nuovo regolamento ma soprattutto abbiamo visto come le eccellenze della nostra pubblica amministrazione in questo caso rappresentata qui e preggiamente eh da Michele Munafo ovviamente io ringrazio il presidente di Ispra anche il direttore generale Michele Munafo per sempre per queste disponibilità per la divulgazione in termini di educazione ambientale che noi come centro di educazione ambientale portiamo avanti per la conoscenza e la diffusione di quella che è una cultura sempre più vicina ai temi della laicità della eh impostazione che deve tenere una pubblica amministrazione rispetto a temi così delicate grazie a Michele Munafo grazie prego Michele prego ecco eccomi grazie grazie per l'invito e buona 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 estate a tutti e buone vacanze bene allora alla con questa puntata si chiude anche l'edizione speciale estiva ma con era importante fare questo questo passaggio su questo regolamento che ci dà il là verso il duemilaventisei e quindi avremo sempre modo di approfondire questi temi con la eh compagnia e come si dice eh la grande professionalità di 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 Ispra grazie buona 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 bu